Piantare un albero per ricordare una persona cara con una nuova vita. Questo l'obiettivo del progetto Gli Alberi della Memoria, promosso dal Circolo Legambiente di Bitonto Pino di Terlizzi con il patrocinio del Comune di Bitonto. Grazie a questa iniziativa diversi alberi saranno donati alla città e messi a dimora in alcuni spazi pubblici destinati alla realizzazione del progetto. Ogni albero sarà corredato di una targhetta commemorativa autoprodotta dal Circolo Legambiente di Bitonto, che non solo è promotore dell'iniziativa ma che seguirà anche tutto l'itero amministrativo legato al progetto. L'acquisto della pianta invece sarà a carico del cittadino, che insieme al Comune di Bitonto provvederà alla sua cura. L'iniziativa è partita con la piantumazione dei primi due esemplari in Villa Comunale lo scorso 18 febbraio, realizzata in collaborazione con l'Azienda Esecuzione Verde di Bari, con l'Associazione Inakis, con Michele Farella e Nicola Rutigliano, due cittadini che hanno voluto rendere il proprio contributo alla causa, e con la cartolibreria del corso, che volontariamente ha contribuito con la stampa delle targhette che sono state affisse ai due esemplari piantati. L'iniziativa proseguirà con la piantumazione di altri alberi in diversi luoghi della città e, benché sia trascorso poco tempo dall'avvio, gli alberi della memoria stanno incontrando ampio interesse tra i cittadini e molte sono le adesioni di chi vuole onorare la memoria di chi non c'è più con una pianta, che contribuirà al contempo a rafforzare il senso di appartenenza al proprio territorio.